Ciao amiche, ciao amici, come sedurre il superuomo? Il superuomo che è? Il superuomo è il supermanager, quello che cerca la realizzazione del lavoro, nella professione, nella vita sociale. Può essere anche l'impiegato, però quello tutto concentrato su queste attività. E questo lo fa perché vuole mascherare il fatto di sentirsi poco uomo, poco capace di sedurre come maschio, e quindi si sente poco maschio fondamentalmente. Ed è attratto da tutte le donne che si rapportano a lui, dicendo invece, facendolo sentire un maschio virile. Quindi tutte le donne che si rapportano a lui, non si innamora certo dall'altra supermanager, diciamo, o dell'altra impiegata, ma si innamora della ballerina, di quella trasgressiva, della ballerina di lap dance, della puttana conosciuta da qualche parte, della, come dire, della donna trasgressiva comunque. Non tanto dalla donna istituzionale. La donna trasgressiva che suscita in lui forti emozioni, mentre quella istituzionale non ne suscita fondamentalmente. Quindi potremmo dire che si coinvolge con la super femmina, la femmina, diciamo, che ha un approccio sessuale, che si veste in modo provocante, che è, diciamo, che fa anche un lavoro un po' trasgressivo, diciamo, per vista, da un punto di vista di cultura sociale. Quindi se voglio sedurre il super uomo, se una donna vuole sedurre il super uomo, deve presentarsi in questo modo, deve presentarsi come molto trasgressiva, mangiatrice di uomini fondamentalmente. E' questo che riesce ad agganciare il super uomo e a farlo capitolare. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici. Ciao!